Contarsi o contare, governare o disturbare, pesare o sparire, la dura vita dei piccoli partiti e movimenti, delle liste autonome e degli indipendenti, di quelli che hanno scelto di andare da soli, alla faccia dei carrozzone, degli apparentamenti, delle maxi-alleanze, di quelli che, ironia della sorte, spesso sono più precisi e identificabili nei contenuti, nei programmi e nel pedigree, ma che i sondaggi danno inesorabilmente per spacciati, in alcuni casi relegati tutti insieme nella voce altri. Una speranza però cede tutta nel primo partito più votato del Lazio, quello degli astenuti e degli indecisi. Il mare, in cui nuotano i cosiddetti pesci piccoli, insomma, sembra essere ben più ampio di altre volte, 30% e oltre, un bacino enorme di elettori in cui pescare consensi. Provane sia che dai tre candidati presidenti delle regionali del 2010, adesso gli aspiranti governatori siano addirittura 13. La rivoluzione a 5 stelle di Beppe Grillo e dei suoi è stimata nel Lazio oltre il 10%. Brutte notizie, forse, per la rete dei cittadini, che alla Pisana candida Giuseppe Strano, detto Pino, catanese che da anni vive a Roma, movimentista di lungo corso, erede di Marzia Marzoli, che nel 2010 non sfondò neanche il muro dell'1%. Propone, tra le altre cose, partecipazione diretta dei cittadini nelle scelte e democrazia dalla base. Di sicuro in tanti pensano che a destra di Storace ci sia spazio. Oltre a Casa Pound e Fiamma Tricolore, infatti, anche Forza Nuova presenta candidato, il suo leader Roberto Fiore. Nell'articolato programma di governo si leggono, tra le altre, la proposta di istituire una moneta parallela all'euro, l'auro, e di fermare la deriva iperliberista che sta travolgendo la sanità nazionale. Casa agli italiani e abolizione proprio delle regioni, altri punti all'ordine del giorno. Ma oltre che con Storace, Fiore e i suoi dovranno vedersela con l'unanime condanna politica e mediatica all'ispirazione fascista del movimento, che in una regione da sempre contraddistinta dal voto d'opinione può essere al tempo stesso un vantaggio e un boomerang. Ripescata in extremis, Forza Nuova, così come la lista dei radicali, amnistia, giustizia e libertà, parte dalla trasparenza e dal candidato presidente Rosso di Vita, che col collega Berardo è riconosciuto come colui che ha scoperchiato il pentolone fiorito. Scaricati, dicono i maligni, proprio per questo da Zingaretti, perso il taxi offerto da Storace, i radicali corrono, come spesso accade, da soli. E i sondaggi gli attribuiscono un misero 2%. Gli va meglio che a tanti altri, certo, anzi agli altri, diversissimi ma uguali, quando scompaiono nelle pieghe delle percentuali. Il 30% di elettori delusi però è lì a portata di mano per tutti. Dunque caccia al voto dell'elettorato indeciso. Buonasera a tutti, bentornati qui su Tag, la nostra trasmissione d'approfondimento che ormai da diverse settimane si sta occupando delle elezioni regionali. E anche oggi ospiti nei nostri studi, candidati presidenti, candidati a prossime elezioni regionali. Presento subito, qui a farle veci, del leader nazionale Fiore, candidato alla presidenza della Regione Lazio per Forza Nuova, un candidato comunque della lista Forza Nuova, che è Claudio Cospito. Buonasera, grazie. Cospito, intanto il collega Fabrizio Massantini nella copertina diceva che dovete fare i conti con l'unanime condanna dell'ispirazione fascista, ma è nascosta poco fa, facendo una battuta, che diceva che siamo oltre la destra. L'altro aspetto che viene richiamato in questi giorni è anche il volersi rifare all'esperienza di Alba Dorada, insomma un'esperienza dura e criticabile. Guardi, innanzitutto dobbiamo chiarire un fatto, nel senso che noi oggi ci presentiamo alle elezioni regionali, che sono elezioni amministrative, in cui le questioni ideologiche di sicuro entrano in secondo piano. Noi non abbiamo mai nascosto il fatto che proviamo comunque una certa simpatia e quindi anche una fascinazione per quelle che sono state le politiche sociali del fascismo, ma oggi ci vogliamo comunque confrontare su quelle che sono le tematiche amministrative, le tematiche della Regione Lazio, e a queste elezioni regionali noi ci presentiamo come forza nuova, ci presentiamo alternative a quelli che sono i due poli del centro-destra e del centro-sinistra, proprio perché entrambi hanno dato una pessima dimostrazione nella gestione della politica, anche e soprattutto a livello regionale. Alternativi anche ad altre forze di destra, insomma c'è un bello affollamento in queste elezioni regionali. Sì, 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 siamo alternativi alle forze di destra, non abbiamo cercato assolutamente inciuci nei confronti appunto di un personaggio come Storace che ha già governato la Regione Lazio e che ha lasciato appunto diciamo dei buchi nella sanità di 10 miliardi di euro che noi oggi ancora dobbiamo ripagare, è un personaggio quindi che per noi è privo di credibilità e fa parte comunque di quella vecchia politica del quale già nel nome forza nuova noi ci vogliamo assolutamente discostare. Bentornato anche a Giuseppe Rosso di Vita, candidato alla Presidenza della Regione Lazio per Amnistia, Giustizia e Libertà, la lista che presentano i radicali. Buonasera, grazie. Buonasera e buonasera agli ascoltatori. Una prima vittoria, insomma, l'ha già ottenuta nel terreno di conquista storico dei radicali, uno dei terreni di conquista storici, il Tarra, perché la lista è riammessa, è presente. Sì, la lista è stata riammessa, noi in realtà non abbiamo mai dubitato di questa circostanza perché le ragioni per le quali eravamo stati esclusi erano veramente grottesche, sotto qualsiasi profilo si volessero guardare. Avete pareggiato? Abbiamo poi pareggiato, sia sotto il profilo, perché a nostro avviso, insomma, non è solo a nostro avviso, gli interpreti delle norme le debbono appunto interpretare, altrimenti avremmo gli elaboratori elettronici al posto dei giudici. Ricordiamo che la vicenda era paradossale perché la lista era stata esclusa per un'eccessiva presenza di donne. Sì, vorrei fare infatti un intervento perché innanzitutto una cosa, che noi viviamo oggi in uno Stato che dovrebbe essere uno Stato di diritto e in cui la legge si dice che è uguale per tutti. Allora io vorrei fare subito una domanda e vorrei chiedere come è stato possibile che noi, Forza Nuova, nel 2010 siamo stati esclusi per la stessa ragione, discriminazione del sesso maschile e al Tarra ci è stato detto che la legge era questa e doveva essere applicata e non è stato possibile essere riammessi. Quindi rappresenta un assurdo il fatto che voi invece ci siete riusciti, come avete fatto? Adesso lo spiego, io ho letto anche il vostro comunicato, infatti avrei voluto che voi assumeste maggiori informazioni rispetto a questo caso, posto che il Tarra ci ha riammesso non perché ha dato ragione a quella interpretazione che voi avete propugnato e che noi stessi abbiamo propugnato e cioè se c'è una norma che viene fatta per garantire la presenza sostanzialmente del sesso femminile che era il sesso discriminato e poi c'è una donna in più, questo non equivale a violare la legge ma equivale esattamente a realizzare la ragione per la quale quella norma scritta è stata introdotta nell'ordinamento. Ma il Tarra non ci ha dato ragione su questo, bensì a differenza di quanto avevate fatto voi, quindi magari prima di fare i comunicati informatevi un po' meglio, noi abbiamo depositato una rinuncia della candidata donna in più e questo nell'immediatezza davanti all'ufficio elettorale regionale, nell'immediatezza l'ufficio elettorale regionale aveva detto che comunque quella rinuncia era tardiva e invece il Tarra interpretando quindi queste altre norme, non quelle che avevano determinato anche la vostra esclusione, interpretando alla luce delle norme non solo costituzionali ma anche diritto comunitario per cui non può essere... Ma dico chiaro, insomma diciamo che il ricorso depositato... Voi non avevate... Una sorta di attenzione medialica specializzata che nei nostri confronti comunque non c'è stata. Voi non avevate rinunciato... Su questo anche perché ci resta da presentare un altro ospite, quindi anche per cortesia lo presentiamo subito, è Pino Nostrano che è candidato alla presidenza della regione Lazio per la rete dei cittadini. Buonasera. Buonasera. Anche per lei una domanda così introduttiva, insomma il vostro movimento che da anni ha questa ispirazione civica rischia di pagare un po' invece l'esplosione del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo in questa competizione. Forse era il momento giusto per l'esplosione e vi è stata soffiata dalla popolarità di Grillo? Ma noi non siamo affatto preoccupati di questo, siamo preoccupati invece del fenomeno in sé perché le istanze che Grillo conduce sono quelle giuste che anche noi cerchiamo di rappresentare sebbene con molta maggiore coerenza e più definizione anche nei programmi e nella struttura interna. Il punto è che Grillo è per noi l'altra faccia del berlusconismo e lui gestisce, è un padre padrone del Movimento, è proprietario del simbolo, il non statuto gli garantisce il controllo di fatto perché le regole non esistendo valgono altre cose per dirigere il Movimento, vale il carisma, vale la visibilità e infatti una delle cose che lui chiede ai suoi candidati è di non andare in tv alle nazionali e secondo me questo serve proprio anche a questo, a mantenere il controllo sul Movimento 5 Stelle. Vincolo che non c'è per le regionali, nella seconda parte del nostro tag sarà ospite Davide Barilari che è candidato proprio al Movimento 5 Stelle e le riporterò a lui questa sua considerazione e sentiremo la risposta. Il primo argomento su cui vorrei sentirvi, visto che ormai i programmi sono ufficiali e depositati è la questione dell'indebitamento, del deficit oltre all'indebitamento che annualmente viene prodotto perché credo che sia l'aspetto da cui è necessario partire perché poi vi sentirò proporre cose per i trasporti cose per la sanità, cose che hanno e proposte che hanno comunque un costo perché nelle intenzioni vanno a migliorare i servizi e allora bisogna partire dalla situazione economica e finanziaria di gestare i giorni. Io risponderò, visto che i miei due amici hanno un po' monopolizzato. Partiamo da strano, partiamo da strano, prego. Ma l'indebitamento da cosa è causato? Soltanto da una cattiva gestione? Anche. Soltanto dal fatto che ci sono tanti ladri che rubano? Anche. Ma c'è una radice di fondo dell'indebitamento. Il debito pubblico viene originato dal fatto che la moneta è proprietà privata di un istituto di emissione che si chiama Banca Centrale Europea, prima si chiamava Banca d'Italia e noi di fatto abbiamo perso la sovranità come Stato e come cittadini su questa moneta. Per avere della carta che serve, dei simboli monetari che servono a fare funzionare l'economia noi dobbiamo pagare degli interessi a fronte dei quali dobbiamo corrispondere beni veri. Ora il debito così come strutturato è inestinguibile, non può per definizione estinguersi. Se lei guarda il debito pubblico, il nostro deficit è dovuto semplicemente al pagamento di interessi. Se eliminassimo questi interessi, che non si capisce perché dobbiamo dare, perché potremmo stamparci la moneta da soli, se eliminassimo questi interessi non avremmo eliminato il debito pubblico. Ci stiamo riferendo in particolare al indebitamento regionale però. È la stessa cosa perché l'indebitamento regionale è figlio dell'indebitamento nazionale. Quando tu sei privato della moneta noi dobbiamo inserire anche il contesto regionale, le questioni problematiche regionali nel contesto nazionale. A patto da uscire dunque dalla comunità internazionale? No, è possibile anche utilizzare degli strumenti alternativi. Sebbene la regione non può battere moneta, può utilizzare altri strumenti tipo finanziario e monetario. Noi quello che proponiamo per esempio è l'uso e la cambiale sociale, attraverso il quale la regione può garantire la circolazione di uno strumento monetario alternativo per permettere lo sviluppo economico e anche il rifinanziamento delle imprese. Questo per noi è un aspetto molto importante. Da qui riparto anche con Cospito perché la vostra prosta è simile a quella di una moneta regionale. Noi esatto nel programma abbiamo fatto un'analisi. Noi ci rifacciamo a quella che è l'analisi del professor Giacinto Auridi che è stato docente universitario a Teramo e che ha elaborato proprio la teoria della proprietà popolare della moneta della proprietà della moneta da parte dei cittadini. Crediamo quindi in quello che è il principio della sovranità monetaria e crediamo appunto che quindi la regione possa essere appunto uno strumento per poter iniziare appunto a emettere una moneta complementare che noi abbiamo appunto chiamato Auro, una moneta che potrebbe comunque essere tranquillamente diciamo garantita da parte di quella che è il patrimonio immobiliare della regione e che consentirebbe quindi di garantire appunto la circolazione della ricchezza senza per questo comunque andare a creare una sorta di debito pubblico regionale. Quindi attraverso questa moneta... Ma che facciamo con l'indebitamento già accumulato? Con l'indebitamento già accumulato innanzitutto bisogna ripartire da quelli che sono appunto i tagli completi dei costi appunto della politica regionale in quanto sia nel sistema che si è focalizzato nella regione appunto un sistema partitocratico i partiti hanno depredato quelli che erano appunto i fondi regionali non possiamo andare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini a chiedergli soldi, a applicare nuove tasse quando poi i soldi della regione sono stati spesi da parte di consiglieri regionali per giocare alla roulette o per giocare alle slot machine è fondamentale tagliare quindi i costi della politica. Intanto vi ricordo che potete interagire con noi attraverso Twitter a Chioccio la Terroma 56 c'è già un simpatizzante di Forza Nuova che proprio fa riferimento alla sovranità monetaria della quale dice ora parlano tutti Forza Nuova lo fa da 10 anni, da più di 10 anni. Rosso di vita ha sentito, insomma, si tratta di proposte che dal punto di vista economico e finanziario sono proposte rivoluzionarie. Dal vostro punto di vista sostenibili, realizzabili? No, io ammetto la mia ignoranza sul punto mi sfuggono alcuni passaggi di come potrebbe funzionare una moneta regionale per quanto riguarda la proposta di Forza Nuova e mi chiedo appunto quale sarebbe il sistema per far circolare questa moneta solo all'interno della regione solo a fronte di servizi erogati dalla regione oppure tra tutti i cittadini. No, noi abbiamo ipotizzato la realizzazione diciamo di una sorta di circuito in cui appunto è la regione a emettere moneta e attraverso questa sorta di moneta complementare noi ci siamo riagganciati anche ad altri argomenti come ad esempio il rilancio della produzione di quelli che sono i prodotti locali che vengono realizzati all'interno del Lazio quindi le specificità agroalimentari e l'utilizzo di questa moneta potrebbe essere appunto destinato tranquillamente per l'acquisto di beni regionali in questo modo la moneta continuerebbe a rimanere all'interno appunto di quella che è la regione creerebbe ricchezza non impedirebbe quindi l'aumento di debito pubblico è un tentativo ma non è un'utopia perché oggi l'altro giorno leggevo un articolo del giornale di Wall Street che diceva che proprio in tempi di crisi in tempi di crisi nell'economia il ricorso a monete complementari è auspicabile, può funzionare ma ci sono anche tentativi anche già in altre regioni perché per esempio Sardegna è stato emanato questo va detto che non ha avuto i risultati auspicati però fino a questo momento perché sono stati tentativi molto limitati molto circoscritti non garantiti da enti potestativi come quello della regione per esempio comunque rispetto alla nota che faceva abile a monopolizzare è la seconda risposta che dà su questa domanda è approfittato di una mia voi avete monopolizzato l'inizio adesso io cerco di monopolizzare il centro non monopolizza nessuno darò spazio uguale a tutti ve lo assicuro Rossodita vorrei sentire la proposta dei radicali su come aggredire il debito e soprattutto su come limitare il deficit già a partire dal 2013 perché è l'unico modo per poi avere risorse da redistribuire in qualche modo No, allora io queste proposte sono sicuramente interessanti andrebbero approfondite meglio trovo degli ostacoli normativi diciamo a meno che non si faccia qualche cosa di magari un po' folcloristico ma che poi l'effettivo non è se invece si volesse implementare un sistema di questo tipo penso che andrebbero cambiate molte norme anche a livello nazionale per quanto riguarda la proposta loro chiaramente non mi riferisco alla cambiare sociale ma al discorso della Banca Centrale Europea la posizione nostra e ovviamente qui andiamo a fare discorsi più ampi è quella invece che purtroppo l'Unione Europea appunto si è alla fine risolta in tutto meno che in quello che doveva essere cioè una vera unione politica con la Banca Centrale Europea che fosse anche l'espressione di una politica complessiva europea sulla moneta ed economica e anche sulla materia della difesa però su questo vorrei intervincere un attimo le dico subito la parola solo per specificare una cosa la Banca Centrale Europea non batte moneta per i singoli stati come obbio però abbiamo alle spalle nel recentissimo passato in quest'anno un intervento da parte della Banca Centrale Europea che poi può essere criticabile per i modi attraverso i quali è stato messo in campo che però di fatto ha è intervenuto in maniera pesante sull'indebitamento di paesi altrettanto importanti ma soprattutto per l'Italia si è detto che quei soldi dovevano andare come dire l'intervento della Banca Centrale Europea ha in qualche modo permesso al debito italiano di risultare sostenibile di fronte alla comunità finanziaria internazionale ma era solo una precisazione prego sono soldi che sono stati prestati alle banche per comprare diciamo il debito pubblico sono titoli del debito pubblico e quello è un altro discorso ovviamente il discorso a livello regionale non mi sembra in realtà affrontabile in questi temi e in questi in questi in questi termini chiedo scusa sono molto stanco è dura la campagna elettorale con preferenza è dura la campagna elettorale e invece quello che è appunto il deficit della regione io lo imputo esclusivamente ad una cattiva gestione delle risorse che sono state introetate attraverso appunto il prelievo fiscale e i trasferimenti dello Stato che sempre prelievo fiscale sono e che comportano comunque un bilancio di 25 miliardi di euro all'anno e io continuo a ritenere per quel che ho potuto vedere un noto giornalista ha scritto un libro visto cose per quello che ho potuto vedere in questi due anni nel consiglio regionale che secondo me quei soldi sono più che sufficienti per fare della regione Lazio una regione che potrebbe essere davvero una piccola Svizzera se solo fossero utilizzati bene e se solo non fossero dirottati tra gli sprechi il maraffare e la corruzione da qui ripartirei anche con le precisazioni che strano vuole sulla questione precedente però siccome tutti e tre avete tutte e tre le vostre forze politiche hanno come punto forte anche quello della riduzione dei costi della politica della riduzione dei costi in particolare del consiglio regionale non mi verrete adesso a dire però che limitando esclusivamente su quel fronte della regione si risana assolutamente e comincia un giro a strano questo infatti io non lo dico però certamente è un aspetto che bisogna affrontare e tra l'altro non sono solo i costi della politica diretti cioè quelli causati dai rappresentanti o dalla gestione cattiva da parte degli assessorati eccetera ma sono anche i costi indiretti nel senso che tutti i livelli intermedi di gestione del potere di dirigenza dei servizi sono affidati con motivazioni politiche e non per capacità e i criteri di valutazione sono politici non basati sull'efficacia e l'efficienza del loro lavoro per questo diciamo che rispetto a questo dovrebbero entrarci i cittadini nel valutare come funzionano i servizi e le dirigenze a vari livelli ai più bassi e ai più alti dovrebbero essere valutate e premiate o punite dal giudizio dei cittadini la customer satisfaction non c'è bisogno di inventarla esiste già funzione per le imprese private non si capisce perché certi criteri scientifici di efficacia e di efficienza non possono essere applicati anche ai servizi per quanto riguarda invece il discorso di prima sulla faccenda che la banca centrale europea ci avrebbe salvato è proprio il contrario è proprio il contrario non era quello che volevo dire forse lo sprazzo male comunque sia ultimamente Draghi ha fatto questa dichiarazione di che finanziere ha il sistema bancario europeo illimitatamente proprio per coprire le speculazioni c'è l'altro ha fatto questa dichiarazione finanzia il sistema bancario con un interesse allo 0,75% a 1% dopodiché le banche che cosa fanno per aiutare l'economia comprano bot al 5, 6, 7% mi spiega dove sta l'aiuto ci hanno strangolato noi siamo in mano dei cravattari internazionali questa è la verità non parlavo di aiuto parlavo di intervento da parte della banca centrale europea la scelta poi ho detto attraverso il quale l'intervento si è espresso può essere più o meno criticabile però si è comportata come si sarebbe comportata probabilmente una banca centrale nazionale ha fatto una scelta di economia finanziaria criticabile no il fondo monetario internazionale che è un'altra cosa rispetto alla banca centrale europea ha criticato invece la politica monetaria non c'è dubbio della banca centrale europea tant'è vero ha fatto un intervento lo chief economist del fondo monetario internazionale ha esplicitamente dichiarato che i tipi di interventi che ha fatti da Monti sulla base della letterina inviata erano suicidi hanno stretto e soffocato l'economia quindi hanno peggiorato il problema e mi sembra che sia evidente risorse da recuperare al di là insieme a quelle dei costi della politica si allora diciamo che innanzitutto l'altro giorno Berlusconi ha fatto appunto una promessa restituirò l'IMU ai cittadini allora provocatoriamente verrebbe da chiedersi per quale motivo non ha ancora restituito tutti quelli che sono stati finanziamenti pubblici che il popolo delle libertà comunque ha diciamo percepito in dieci anni di esistenza negli anni in cui è esistito comunque sia quello che noi diciamo è un concetto chiaro è mancata in questa gestione in questi ultimi due anni è mancata diciamo una sorta di controllo da parte dei cittadini nei confronti appunto dell'operato dei consiglieri regionali una mancanza di controllo che denota ulteriormente quanto ormai la politica sia scollegata da quello che è il mondo reale e per questo diciamo che le contromisure che vanno adottate sono comunque contromisure di facile applicazione nel senso è necessaria solamente la volontà e la determinazione perché oggi tramite internet sarebbe comunque possibile ipotizzare che qualsiasi atto del consiglio regionale venga reso pubblico e fatto conoscere appunto a quelli che sono i cittadini del Lazio ugualmente il bilancio della regione Lazio deve essere diciamo approvato mensilmente con la indicazione spesa per spesa affinché non ricapiti quello che è successo con Fiorito in cui lo stesso Fiorito ha accusato gli altri consiglieri regionali del PDL di chiedere appunto soldi indicando appunto delle motivazioni che erano assolutamente inesistenti o non specificate quindi c'è bisogno di un maggiore controllo da parte dei cittadini c'è bisogno appunto anche di una trasparenza e allora perché non ipotizzare il fatto che le sedute del Consiglio regionale debbano essere trasmesse in streaming attraverso appunto l'utilizzo di internet comunque quello che voglio appunto ribadire è che ci ritroviamo quindi oggi a con determinati soggetti politici come ad esempio il PDL che ripropongono nuovamente dei personaggi squalificati che hanno fatto parte anche della aggiunta precedente che hanno percepito dei vitalizi che gli sono stati garantiti dalla Polverini pur non essendo stati comunque questi eletti vengono oggi ripresentati e questo dimostra come non sia assolutamente cambiato nulla dalla gestione del potere che c'è stata appunto in questi ultimi due anni è una vergogna noi di Forza Nuova due mesi fa quando si è sciolta appunto la giunta Polverini stavamo di fronte alla Via della Pisana a protestare per poter esprimere la rabbia di tutti quei cittadini che si sentono traditi da questa classe politica Rosso di Vita tema dei costi della politica sì insomma poi radicali da questo punto di vista diciamo nella parte conclusiva della legislatura sono stati anche a loro modo protagonisti della vicenda al fiorito però poi risorse dove ancora andarle a reperire risulta difficile in un bilancio regionale che negli ultimi anni è stato parecchio definanziato da parte dello Stato Sì quanto diceva l'ospite di Forza Nuova ha un nome e un cognome si chiama Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati che consentirebbe la totale ed assoluta trasparenza sull'attività dell'amministrazione a tutti i livelli anche dei consiglieri regionali della politica dei direttori generali di tutto sarebbe tutto online se solo fosse stata approvata questa proposta di legge che non è di fine legislatura ma è la prima proposta di legge che abbiamo portato la prima che abbiamo depositato il giorno dopo che ci siamo seduti in consiglio regionale abbiamo depositato questa Anagrafe pubblica degli eletti e denominati che nessuno ha voluto poi fosse approvata così come nessuno ha voluto che fossero approvate tutte quelle norme che sotto forma di emendamenti noi andavamo ad inserire come parti di Anagrafe pubblica degli eletti e denominati quando si andavano ad approvare leggi di settore quindi dico benvenuti e speriamo di farla insieme questa battaglia detto questo io insisto anche da un punto di vista terminologico per me non sono costi della politica sono costi della partitocrazia che è un'altra cosa allora adesso ovviamente sull'onda della populismo e della demagogia i consiglieri regionali sono stati tagliati da 70 a 50 noi abbiamo fatto un ricorso al Tarra il cui merito dovrà essere discorso il 7 marzo e chissà che non ci troveremo ad affrontare dopo pochi mesi una ventina di ripescati no 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 essi dovranno rifare le elezioni un'altra campagna elettorale perché qual è il nostro principio qui non si deve andare a tagliare la rappresentanza democratica ma non perché siamo partiti piccoli io l'inizio di quel servizio non lo voglio neanche commentare i sondaggi sono il più grande strumento di campagna elettorale che viene utilizzato ovviamente dai grandi partiti che hanno tanti quattrini per farli giornalmente e per orientare l'opinione pubblica io ancora credo in un miracolo in cui i cittadini quando vanno dentro l'urna invece non seguono quello che dicono i sondaggi ma seguono la loro testa la loro coscienza e soprattutto siano in grado di discernere tra tutte le informazioni che se ci fosse libertà e democrazia in questo paese avrebbero dovuto acquisire durante la campagna elettorale per fare la scelta migliore per quanto riguarda Dele Roma 56 lei ha la seconda presenza non parlo di Dele Roma 56 io parlo della RAI lei questo partito di piccoli la fa arrabbiare ogni volta certo che mi fa arrabbiare perché noi siamo piccoli si diceva anche noi siamo rinunciati a far parte di carrozzoni impresentabili ma sì ma assolutamente ma a me non interessano i carrozzoni impresentabili io dico che forza nuova rete dei cittadini radicali della lista amministra giustizia e libertà il 24 mattina quando si aprono le urne sono sulla stessa linea di partenza del PDL o del PD e poi decideranno i cittadini e non è vero quello che si dice appunto che gli altri partono avanti e quindi c'è il voto utile l'unico voto utile per i cittadini e spero che oramai l'abbiamo capito tutti quanti non è il voto utile per i partiti grandi perché i partiti grandi appunto hanno avuto i voti utili per loro stessi e in 60 anni hanno ridotto questo Stato e questa Regione nelle condizioni in cui appunto siamo ridotti oggi allora il voto utile è quello del cittadino libero che magari contemporaneamente tutti quanti possono pensare ma come sarebbe una Regione governata da 26 radicali anziché avere solo due radicali dell'opposizione sarebbe una Regione che rispetta la trasparenza la legalità tutte queste cose di cui oggi siamo tutti anzitutto noi candidati come cittadini siamo affamati di legalità e di trasparenza allora siccome ci dobbiamo fermare voglio però riproporvi un attimo siccome la Presidente di Misionari non ho risposto sui costi della partitocrazia prego ha ragione lei un minuto ho fatto una premessa ho fatto una premessa un minuto prego i costi allora come diceva anche l'ospite della rete dei cittadini i costi della politica sono una cosa i costi della partitocrazia sono un'altra il Consiglio regionale prende lo 0,2% tutti questi soldi rispetto al bilancio della Regione i soldi dov'è che vengono spesi vengono spesi male dalle giunte e dalla giunta ogni giorno la giunta faceva fumar via 50, 60, 70 milioni di euro non dati a chi ne ha bisogno ai più meritevoli ai progetti che realmente rilanciano l'economia ridati agli amici che poi adesso in questa campagna elettorale riportano i voti per cui poi si dice i sondaggi quelli sono i grossi partiti ripartiamo da qui sul lato dopo la pubblicità anche perché gran parte di questa spesa finisce nel settore della spesa sanitaria due terzi per cui ripartiamo da qui prima però vi propongo delle dichiarazioni di Renata Polverini presidente uscente della regione che proprio in tempo reale sta facendo un'altra intervista la storia del Lazio viene da lontano nessuna giunta può aver fatto da solo 25 miliardi di debiti e qui insomma poco da commentare l'altra questione riguarda Fiorito sicuramente ha detto la Polverini Fiorito era una mela marcia commento rapido parto da strano era l'unica io non credo io credo che il sistema sia così ogni tanto si scopre la mela marcia ma io credo che le mela marcia siano molte di più ma il punto non è questo e come facciamo a evitare che esistano e come ci difendiamo quando le troviamo perché io sono ben contento che anche Forza Nuova si stia spostando verso posizioni di democrazia partecipata qui in questo caso noi abbiamo un diritto di primogenitura ma credo che al di là di questo sia giusto seguire qualunque soluzione e ai problemi indipendentemente da quale possa essere la matrice questa è una cosa che si caratterizza noi proprio siamo ideologici da questo punto di vista aperti a qualunque cosa fra le nostre file esistono persone di destra di sinistra di centro fuori uscita al PDL e così via qual è la soluzione? la soluzione non sono 26 consiglieri dei radicali o di rete dei cittadini la soluzione sono 3 milioni di cittadini a cui spetta la sovranità a cui spetta l'ultima parola che dovrebbero avere il diritto di poterla dire per cui una delle nostre proposte è il referendum propositivo deliberativo senza quorum così che i cittadini possano decidere direttamente le leggi qui sta una porta aperta con Rosetta quindi lo salto su questo no no è una battuta sulla Polverini per dire appunto che dovrebbe avere il buon gusto di stare zitta dal momento che ha comunque speso milioni di euro dei fondi regionali per approvare appunto campagne pubblicitarie per poter vantare quelli che hanno stati i suoi grandi successi quindi dovrebbe avere il buon gusto di tacere poi una battuta un attimo sulla democrazia partecipativa in realtà noi già dal 1932 da quando Mussolini gentili hanno approvato la dottrina del fascismo lì si parla pubblicamente di democrazia qualitativa e partecipativa e spera noi ci rifacciamo da sempre è rimasta sulla carta possiamo parlare in un programma di storia è rimasta sulla carta Rosso Dito una mela marcia solamente Fiorito ma io diciamo partendo dall'esperienza e dalla osservazione quando vedo in un cesto una mela marcia o questa mela marcia la levo oppure come dire il marciume inizia a contagiare anche le mele vicino non è così che funziona ci fermiamo per la pubblicità torniamo poi per parlare di sanità mi interessa conoscere le ricette il termine suona anche buffo visto che parliamo di temi sanitari e che parliamo della salute dei cittadini e però la situazione in questa regione merita un approfondimento a tra poco grazie a tutti grazie a tutti abbiamo realizzato vere case da ammirare eleganti rifinite e di pregio tra via Collatina e via Prenestina acquistando una casa dal gruppo Edoardo Caltagirone troverete oltre alla qualità riconosciuta modalità di pagamento eccezionali mutui a condizioni irripetibili con rate inferiore ad un canone di affitto e senza costi di intermediazione richiedete l'assistenza del nostro personale per informazioni e per valutare possibilità di permute ai numeri 06 22 18 14 67 o 06 22 53 294 IC dove le case sono più belle per la tua pubblicità su Teleroma 56 telefona alla Publi Roma Ica 06 88 52 91 82 fax 06 88 14 307 www.publiroma.net L'appuntamento è con 56 live dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 la politica la cronaca cittadina lo sport con le ultime notizie su Roma e Lazio 56 live l'informazione rigorosamente in diretta di Teleroma 56 quartieri sporchi lavori infiniti le strade non sono sicure gli asili nido solo per pochi i trasporti sono inadeguati le liste d'attesa in ospedale interminabili basta lo dico a Teleroma 56 su Twitter a Chioccio la Teleroma 56 sulla pagina Facebook di Teleroma 56 o via mail a lo dico a Teleroma a Teleroma 56 punto tv torniamo torniamo qui su TAG come promesso per parlare di sanità due terzi della spesa di questa regione finisce nel settore sanitario a giudicare dalla necessità che sembra essere impellente a giudicare da quello che i due commissari ad acta gli ultimi due commissari ad acta hanno proposto insomma la situazione è grave e dal punto di vista economico e in parte solo in parte anche dal punto di vista dei servizi offerti ai cittadini tra poco ne vedremo un esempio come intervenire da questo punto di vista questa volta parto da Rosso di vita la questione della sanità è complessa e allo stesso modo semplice in che senso complessa dal punto di vista economico semplice dal punto di vista dei servizi che devono essere garantiti ai cittadini cioè io penso che noi non possiamo avere opzioni rispetto ai servizi da garantire ai cittadini i cittadini hanno il diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione e quindi bisogna assolutamente evitare quelle situazioni che pure si sono verificate attraverso i tagli della Polverini in questa legislatura dove per esempio si sono andate a tagliare posti letto nelle province dove già piuttosto che a Roma questo per ricambiare il favore al Vaticano e alle cliniche convenzionate religiose che fanno alzare in modo spaventoso il rapporto posti letto cittadini sulla città di Roma soprattutto in alcuni quadranti della città di Roma ebbene lì la Polverini non ha tagliato niente invece dove ha tagliato nelle province nelle province dove il rapporto era già di 2 a 10 e dove anche la conformazione geografica ha una sua fondamentale importanza gli spostamenti le urgenze e la chiusura dei pronto soccorso ha causato come avevamo detto delle morti purtroppo e queste morti sono sulla coscienza di chi ha fatto dei tagli senza andare a vedere dove dovevano essere effettuati i tagli ci ho detto noi la nostra proposta è esattamente quella della Bonino nella campagna elettorale del 2010 cioè una medicina di prossimità e territoriale che vada ad alleggerire il ruolo dei pronto soccorso e sicuramente lì dove c'è un surplus di offerta ospedaliera anche attraverso il privato convenzionato lì deve essere tagliato senz'altro dopo di che c'è un senza guardare in faccia a nessuno e questa è una garanzia che noi non abbiamo debiti elettorali da pagare con chi che sia e quindi forse ne guadagnerebbero i cittadini perderebbero senz'altro dei quattrini le strutture religiose ma poco importa in questo momento tagliereste solo perché in quanto strutture religiose andreste a vedere dove la sanità funziona e dove non funziona andremo a vedere esattamente dove c'è un surplus di offerta la Polverini non l'ha voluto vedere si è tappata agli occhi ed è andata a chiudere ospedali nelle province del Lazio e nella provincia di Roma lasciando intere fasce di popolazione veramente senza presidi peraltro senza la possibilità di trasporti rapidi sia per inefficienza dei servizi sia per la conformazione geografica di quei territori e questo ha causato quel che ha causato ma la sanità del Lazio che impegna i due terzi del bilancio quindi intorno ai 17-18 miliardi di euro ditemi voi se questi quattrini non sono più che sufficienti per garantirci una sanità svizzera direi io se solo non ci fossero ancora una volta gli sprechi il maraffare e la corruzione che tutte lì si annidano ma perché si annidano lì spieghiamolo ai cittadini i direttori generali delle ASL vengono nominati dai partiti di governo e dai partiti di opposizione consociativi tant'è che anche in questa legislatura ci sono stati dei direttori generali che sono stati riconosciuti dalla Polverini al Partito Democratico ovviamente questo all'insaputa di noi radicali che avevamo proposto una cosa molto semplice andiamoci a mettere i migliori facciamo una selezione con i curricula online trasparenti i cittadini verificano controllano no qual è il requisito essenziale tessera di partito in tasca fedeltà al presidente della regione per fare clientelismo con tutti gli appalti delle ASL e le ASL sono dei posti senza fondo che non hanno bilanci meritocrazia anche nella scelta dei direttori generali e dei direttori sanitari noi la dobbiamo liberare questa regione da questi partiti che se la sono mangiata è chiaro è chiaro sì assolutamente d'accordo sulla meritocrazia in più vorrei aggiungere comunque il fatto che diciamo che c'è stato un taglio dei costi della sanità che secondo noi è stato sbagliato perché si è tagliato comunque si sta cercando di tagliare anche col decreto Bondi sui posti letto si sta cercando appunto di tagliare comunque su quelle che è il personale medico e sanitario non vengono fatti concorsi non vengono più regolarizzati diciamo i contratti né dei medici né della struttura appunto degli infermieri che sono comunque le strutture portanti della sanità non vengono fatti nuovi concorsi invece noi di forza nuova diciamo che se ci deve essere una razionalizzazione allora questa deve avvenire su quello che è il personale burocratico della sanità che rappresenta appunto il 50% del personale sanitario che è un personale che non è produttivo e se tagli devono essere allora devono avvenire su questo in più noi diciamo che la Regione e quindi lo Stato devono difendere quelli che sono appunto le strutture sanitarie a gestione pubblica e i finanziamenti devono essere dunque destinati esclusivamente a loro quelle che sono le strutture private appunto questo già lo dice il nome devono essere finanziate dai privati e la Regione non ci deve quindi mettere bocca attenzione però perché il sistema organizzativo della sanità dell'assistenza sanitaria in questa Regione fa sì che determinati settori l'assistenza ad esempio le persone disabili l'assistenza domiciliare siano completamente appaltati al privato cioè una posizione come la vostra di fatto non per colpa della proposta ma per come è organizzata la sanità nella nostra Regione di fatto da un giorno all'altro toglierebbe interi settori e interi servizi ai cittadini vorrei chiederle invece strano dal punto di vista della sanità pubblica della sostenibilità del sistema sanitario pubblico in queste ultime settimane in questi ultimi mesi c'è chi l'ha messa in discussione portando ad esempio i casi delle Regioni che si sono indebitate pesantemente per sostenerlo deve continuare ad essere un punto imprescindibile quello? la sanità è fondamentale è uno dei parametri di valutazione della civiltà di un popolo ma il problema è che io sono netto d'accordo con quello che hanno detto prima loro siamo tutti d'accordo potremmo stare in giunta insieme su questo ma c'è di più in giunta insieme poi voglio sapere che fare con i consultori con le spese per gli aborti ha raggiunto dei livelli che non riguarda solo i direttori generali riguarda i primari riguarda i direttori dei servizi delle unità operative semplici abbiamo primari con sei posti letto è successo e indipendentemente dai vari governi che si sono succeduti in questa Regione che ogni volta che cambiava il Presidente della Regione il Governatore della Regione con il sistema dello spoil system esagerato reparti che funzionavano bene hanno avuto sono stati smantellati perché erano diretti da personale che non aveva la tessera di quel partito da questo punto di vista lo spoil system è una legge possibile che non si riesca a migliorarla mettendo dei paletti più stringenti anche su come deve essere deve verificarsi perché al momento consente solamente alla nuova giunta di nominare persone di propria fiducia qual è la soluzione perché questo è il problema ma la soluzione qual è non basta dire meritocrazia chi la applica questa meritocrazia se la meritocrazia è nelle mani delle stesse persone che l'hanno adesso abbiamo concluso niente siamo mandati la coda quello che noi dobbiamo fare è fare entrare in questo processo decisionale di scelte l'utenza è l'utenza che deve avere voce in capitolo attraverso attraverso quale strumento elezioni del direttore generale no significa la customer satisfaction per esempio vuol dire verificare la valutazione della bontà di un servizio del gradimento da parte degli utenti ma poi ci stanno anche altre condizioni di valutazione ma non parlo soltanto del singolo utente ma parlo anche delle associazioni di utenti parlo delle consulte parlo delle associazioni dei malati e così via questi hanno diciamo così soltanto una voce in capitolo possono solo gridare ogni tanto ma non hanno potere reale invece bisognerebbe che almeno una fetta di questo potere fosse loro e fosse dei cittadini guardi se posso dire sulla customer satisfaction noi l'abbiamo fatta una proposta nell'ambito di una finanziaria appunto per consentire ai cittadini di andare online e dire la loro sulla qualità del servizio erogato ma non è sondaggio devi dare potere reale no 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 un controllo un controllo attenzione sto dicendo un controllo dei cittadini a cui poi è legato la prosecuzione del convenzionamento con la regione questa era la nostra proposta che l'ha giunta questa era una buona idea era la direzione giusta è stata una proposta sulla quale abbiamo battagliato 4-5 ore in consiglio regionale senza ottenere il risultato invece per esempio il risultato l'abbiamo ottenuto su ReCup garantendo l'apertura delle agende anche dei privati che non le mettevano a disposizione questa è legge ma non è stata mai messa in opera e ne vediamo subito un'attuazione pratica del fatto che non è mai stata messa in campo agende chiuse per quello che riguarda la sanità privata ma anche per i policlinici il risultato lo ha testato proprio attraverso gli strumenti che mette a disposizione ReCup sia quelli online che quelli telefonici la collega Manuela Baldi vediamo come è andata Tra i punti deboli della sanità del Lazio ci sono le liste d'attesa e anche le difficoltà nella prenotazione dei servizi e degli esami appunto sanitari dunque c'è un sito che è quello del ReCup del Lazio sul quale è possibile sia effettuare le prenotazioni ma anche consultare quali sono state le liste d'attesa nello scorso anno un fattore trasparenza dunque già dal settembre del 2012 è possibile vedere quanti giorni c'era da aspettare per alcuni degli esami più difficili anche più urgenti da fare noi siamo andati a vedere sul sito ve lo facciamo vedere vi facciamo vedere per i diversi esami quali sono stati appunto le attese a seconda delle diverse ASLE qui siamo all'interno del mese di settembre del 2012 prima di allora ci sono agosto e luglio ovviamente non sono stati aggiornati i dati a dopo settembre proviamo direttamente a vedere questo tipo di esame che è il primo che è preimpostato per il settembre del 2012 e già da qui è chiaro che per esempio per l'ASLE Roma B E F G siamo fuori dai tempi limite con giorni che oscillano arrivano fino a 170 ci sono degli altri esami che però sono ancora più difficili da prenotare ad esempio le TAC che sono diciamo degli esami un po' più complessi e qui ad esempio ASLE Roma D da 213 giorni d'attesa per il mese di settembre del 2012 per esempio per l'ecografia del capo e del collo qui siamo in una situazione per cui addirittura nelle ASLE di Roma F e G abbiamo tempi che arrivano quasi all'anno di attesa profizionale buonasera e salve buongiorno chiamo per avere un'informazione per un'ecografia ostetrica e volevo sapere più o meno per regolarmi quali sono i tempi d'attesa quindi la prossima decina di giorni eh sì allora meno che non vuole andare a Cassino a Frosinone non c'ho altro Cassino e Frosinone basta su Roma nulla Roma nulla la più vicina che c'è quando è? aprile signora già fatto lì dopo ah ecco perfetto comunque diciamo che gli esami più difficili da prenotare sono le ecografie ecografie le ecografie di genere non solo quelle altre ah quindi anche le altre ecografie sì tutte le ecografie in genere ma perché ci sono queste attese così lunghe? perché più tanta gente purtroppo sta male i posti e gli ospedali sono limitati e ovviamente si riempiono subito appena ci danno le agende quindi andiamo a tempi molto lunghi da aggiungere come piccolo appendice nel caso in cui la collega avesse provato a vedere in intramenia quando e quindi a pagamento però presso la stessa struttura ospedaliera quando fosse stata disponibile una ecografia nel giro di 4-5 giorni avrebbe risolto il problema ma c'è indubbiamente qualcosa da rivedere in questo caso parto da cospi sì c'è qualcosa da rivedere anche perché quello che poi non dice il servizio è che ben il 50% delle persone che si rivolgono appunto al recap dopo aver sentito appunto quali sono i tempi d'attesa rinunciano appunto anche alla prenotazione delle visite che hanno che appunto hanno fatto quindi c'è comunque un problema di sicuro un problema di disorganizzazione nel senso che i problemi della sanità quindi non investono soltanto quello che è il campo del finanziamento ma anche appunto della disorganizzazione e beh quello che possiamo dire che allora innanzitutto iniziamo ad aprire gli ambulatori 24 ore su 24 iniziamo a considerare appunto quello che è diciamo il personale la gente che si rivolge agli ospedali non più come dei clienti bensì come appunto veri e propri utenti che devono beneficiare di un sistema che comunque è espressione appunto dello stato sociale cioè lo stato deve tornare quindi anche magari a svolgere innanzitutto una funzione di controllo e aprirà anche un'indagine sul perché del malfunzionamento appunto di questo sistema strano diceva Rosso di Vita le agende a disposizione delle strutture private non ci sono non sono a disposizione in Recup in molti casi le legge sì perché la legge l'abbiamo fatta approvare ci siamo riusciti la legislatura lo prevederebbe stesso discorso per i policlinici aggiungo che anche le strutture che mettono a disposizione la propria agenda lo fanno solo nella misura del 40-45% insomma se quello deve essere lo strumento regionale per la prenotazione non può una struttura ospedaliera regionale mettere a disposizione solo meno della metà non dovrebbe io vorrei capire chi è che si inventa certe cose perché abbiamo abbiamo avuto in questi due o tre anni di di governo Polverini ma devo dire che la situazione non era molto diversa anche prima una serie di provvedimenti che riguardavano la sanità alcuni addirittura inapplicabili proprio tecnicamente inapplicabili questo perché i tavoli tecnici che dovrebbero supportare gli assessorati in particolare quello del commissario ad acta per la sanità in realtà sono anche questi di nomina politica sostanzialmente e non si guarda ai criteri scientifici non so nessuno parla di esiti di outcome si parla solo di tagli della spesa ma li vogliamo fare ragionati quando io ho sentito parlare di spending review pensavo si trattasse caso per caso di andare a analizzare che gli operatori sarebbero stati coinvolti che gli utenti sarebbero stati coinvolti con la nomina di Bondi molti hanno pensato a una scelta selettiva poi anche con l'esperto massimo italiano così considerato i tagli lineari sono stupidi per definizione perché non guardano caso per caso non entrano nello specifico hanno tagliato dei posti a San Filippo Nevi che funzionavano benissimo e che siccome territorialmente la proporzione non corrispondeva andavano tagliati ma vi rendete conto che quelli erano servizi che funzionavano bene erano efficienti erano efficaci economici e servivano non solo quel territorio ma anche altri Roma Nord alla fine tagliare quei posti costerà di più perché bisognerà dare questi servizi in altro posto come li facciamo e da dove andranno posso dire si no dicevo c'è innanzitutto anche una volontà perché quando noi siamo riusciti non sto a descrivere la situazione d'aula nella quale per una serie di coincidenze siamo riusciti a mettere alle strette la giunta Polverini in realtà la giunta doveva approvare un provvedimento entro la mezzanotte e io il mio collega Rocco Berardo non il PD non il Sello non gli altri abbiamo presentato oltre mille emendamenti e quello non gli permetteva di approvare appunto la legge entro la mezzanotte e quindi ci ha come dire concesso la approvazione di alcuni emendamenti tra questi c'è quello del Recup dove abbiamo messo sulla legge che i privati convenzionati dovrebbero devono mettere a disposizione le agende interamente come lo dovrebbe fare il pubblico del Recup questo doveva essere attuato entro la fine di dicembre del 2012 se non mi sbaglio però con altri regolamenti poi approvati dall'aggiunta voi pensate che sarebbero venuti maia no hanno pensato che sono venuti maia questi regolamenti non sono mai stati approvati da chi governava ed è passata in cavalleria anche questo ma è un filo che si può tirare e questo del Recup io lo so perfettamente perché penso di essere forse l'unico consigliere regionale che avendo avuto bisogno si è rivolto al Recup per fare dei test allergologici ai farmaci riguardavano mia figlia piccola e ovviamente avevano detto delle date assolutamente lunari tipo 2014 2015 salvo l'intramenia andiamo in visita appunto a pagamento dopodiché avevano fatto male i loro calcoli perché trovandosi un rompiscato del radicale il giorno dopo stavano sui giornali e anche con denunce sulla questione sanità direi che possiamo fermarci qui voglio farvi una domanda un po' più politica tra i due principali candidati adesso Rosso di vita Zingaretti tra i due principali candidati io e chi quindi Rosso di vita e Storace vogliamo dire più pubblicizzati mettiamola così no tra i candidati di regime questa è la posizione Rosso di vita Zingaretti e Storace confrontando i programmi non vi sto a chiedere una simpatia personale e un atteggiamento ideologico per voi pari sono nel senso che dovendo scegliere non accade perché la legge non prevede un secondo tu mi vuole fare scegliere il colore della corda con cui piccarmi grazie preferisco di no strano chiarissimo Rosso di vita per me sono assolutamente pari per un precisissimo motivo però se non fosse arrivato il nietta a Rosso di vita a Berardo stareste in coalizione con Zingaretti perché avrebbe dimostrato di essere diverso e invece ha dimostrato di essere in assoluta anche voi fate entrerci a seconda di come è conveniente no noi siamo stati alleati in questa passata legislatura con il centro-sinistra non abbiamo perso la nostra identità e il centro-sinistra non ci ha voluto più molto semplicemente avrebbe Zingaretti dimostrato di voler effettivamente rinnovare il modo del PD di stare dentro la regione se non si fosse invece dovuto trincerare dietro a quello che i capi bastione del PD gli hanno imposto e io dico ai cittadini una cosa molto agli elettori alle persone una cosa molto semplice guardate sia Zingaretti che Storace ma anche la Buongiorno mettiamocela la Buongiorno anche lei fa parte del regime stanno disboscando l'Amazzonia con manifesti più spesso abusivi nonostante poi i giornali in pompa magna hanno detto ah Zingaretti ha detto che niente manifesti abusivi stanno dappertutto andatele a vedere si è preso la sua pubblicità contraddetta un giorno dopo con questi manifesti era questa una delle due bombe che aveva annunciato all'inizio la restituzione dei 360 mila euro o i cartelloni abusivi anche di Zingaretti no no la bomba non è la bomba è stata una prima bomba che io pensavo fosse una bomba perché pensavo che ci fosse una reazione diversa da parte della stampa invece mi sono accorto ancora una volta che non ci siamo perché quando noi abbiamo restituito 360 mila euro come avanzo dei fondi di gestione del nostro gruppo abbiamo reso conto centesimo per centesimo di come sono stati spesi fino ad ora abbiamo posto una domanda a Zingaretti Storace Buongiorno e a tutti gli altri candidati che avevano dei gruppi uscenti alle spalle così come abbiamo posto una domanda una sfida anzi al giornalismo italiano andate per cortesia anzi a Zingaretti a Storace alla Buongiorno che c'ha l'Udc alle spalle dite ai gruppi consigliari uscenti dei vostri partiti non solo di restituire soldi ma soprattutto di rendere trasparenti come sono stati spesi soprattutto in questi ultimi due, tre, quattro mesi non vorrei che i fondi quelli siano stati saccheggiati contro la legge per fare campagna elettorale perché quei fondi non possono essere utilizzati per fare campagna elettorale e una loro spesa in campagna elettorale pari è a quella dei SUV o degli champagne o delle ostiche questo deve essere chiaro e abbiamo detto quindi a Zingaretti a Storace alla Buongiorno visto che immaginate la trasparenza e la legalità visto che parlate di trasparenza e legalità fatela ora non fate le promesse che poi non mantenete neanche dopo ma mantenetele almeno ora lo sa qual è stato il risultato nessun giornalista si è interessato nessun giornalista è andato a chiamare non so Montino oppure il capogruppo dell'Udc oppure lo stesso Storace per dire ma i fondi dei vostri gruppi e soprattutto nessuno di questi soggetti ha risposto all'invito di rendere trasparenti i fondi dei loro gruppi e le loro spese quindi sono tutti sullo stesso piano vedevo strano che si si sentia scomodo sulla sedia volevo fargli una domanda velocissima qual è la tua posizione sugli emolumenti ripercepiti dai consiglieri dal presidente del consiglio regionale si la volevo finire prima questa cosa noi abbiamo deciso autonomamente di autoridurci gli emolumenti a un minuto proprio noi ce li siamo autoridotti nel corso di tutta la legislatura perché la metà vanno al partito è certo uscivano sempre da la metà la rete civica avrà le sue spese noi abbiamo le nostre spese di struttura che sono ridotte al minimissimo però da statuto è disposto a un'ulteriore riduzione ma l'abbiamo detto lo volevo dire prima la rappresentanza non va decurtata da 70 a 50 perché quella impedisce a loro a noi di essere dentro riduce la democrazia il consigliere non si possono chiedere sacrifici se non siamo noi i primi Storace e Zingaretti sono comunque come abbiamo già detto espressione di una politica vecchia che ormai ha fatto il suo tempo che hanno la faccia dosta di ripresentarsi a chiedere il consenso dei cittadini e già questo grida vendetta dal cospetto di Dio noi diciamo appunto che se vogliamo veramente cambiare l'Italia è necessario cambiare il modo di votare quindi noi di Forza Nuova ci presentiamo indipendentemente autonomi lontani da ogni schieramento il nostro unico interlocutore sono quelle categorie che maggiormente hanno sentito la rabbia nei confronti appunto di questa classe politica grazie grazie a tutti a tre in bocca al lupo per la vostra campagna elettorale grazie cittadini Amnistia, Giustizia e Libertà Partito Radicale e Forza Nuova grazie a tutti restate qui continuate anche subito dopo la pubblicità ancora con un altro ospite a tra poco